Il 2 aprile il mondo si tinge di blu per la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo istituita dalle Nazioni Unite nel 2007. L'obiettivo della giornata è far luce su questa disabilità promuovendo la ricerca ed il miglioramento dei servizi e contrastando la discriminazione e l'isolamento di cui ancora sono vittima le persone autistiche e i loro familiari. Nel nostro territorio occasione dell'incontro tra il reparto di neuropsichiatria infantile dell'ospedale Santa Croce di Fano e di liceo artistico Mengaroni di Pesaro è stata appunto l'undicesima giornata mondiale dell'autismo. Queste due istituzioni, fiore all'occhiello della società locale, pur in ambiti diversi, si sono ritrovate e hanno dato vita ciascuna con le proprie specifiche professionalità a due momenti di importante riflessione e sensibilizzazione su questo complesso disturbo. Noi ci stiamo occupando in questi ultimi tempi anche di genitori e di fratelli e di compagni perché siamo abituati a pensare che questo disturbo sia riguardo a un bambino ma essendo così disorganizzante riguarda davvero dei gruppi di persone dei quali io credo sia necessario cominciarsi a occupare e l'iniziativa con la scuola Mengaroni di Pesaro è un po' in questo senso, cioè vediamo i ragazzi, vediamo che fine faranno ma vediamo anche che cosa succede nelle loro famiglie, nelle loro scuole e coi fratelli che si trovano dentro a qualcosa di così travolgente. Un filo diretto con le scuole che dura da diverso tempo. Sì, quest'anno è stato il terzo incontro, sempre in occasione della giornata internazionale per l'autismo. Giovedì scorso, 12 aprile, siamo stati invece qua in ospedale. Abbiamo incontrato di nuovo i ragazzi dell'Istituto Mengaroni per una mostra, mostra di opere molto interessanti, opere che sono state realizzate dai ragazzi dell'Istituto Mengaroni e anche da molti nostri ragazzi con appunto questa patologia dello spettro autistico. Il laboratorio consente ai ragazzi di misurarsi e di entrare in sintonia, in sinergia con linguaggi belli, speciali, grafici, pittorici, manipolativi. Alle nostre spalle un esempio grandioso di questo. Qual è stata la risultante artistica di questo progetto? Quello che abbiamo voluto mettere in evidenza è proprio come il linguaggio non verbale dedicato appunto all'arte, al segno, al gesto, al colore diventa poi emozione e appunto le emozioni le possiamo vivere tutti, quindi possiamo comunque contaminarci e farne poi un buon uso per tutti, per tutta la comunità anche scolastica. Il tema dell'inclusione è un tema che voi toccate ogni giorno? Questo tipo di lavoro permette sia agli uni che agli altri di crescere e di conoscersi, di approfondire il rapporto di amicizia, di solidarietà e di collaborazione.